Il sito destinato a discarica in Contrada Anzuka a Francavilla al Mare torna ai cittadini dopo l'opera di bonifica, attività finanziata con fondi statali per 700.000 euro. L'operazione rientra nell'ambito di bonifica e messa in sicurezza delle discariche abusive, oggetto della sentenza dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014. È un sopralluogo quello di oggi importante perché fa vedere come ferite, come alcune ferite del nostro territorio si possono ricucire e come alcune pratiche possono essere anche esportate per poter fare in modo che queste siano delle modalità utilizzate anche in altre parti d'Italia, naturalmente non soltanto in Abruzzo. L'operato del generale Vadalà e dei suoi uomini continua sul territorio abruzzese ma anche nel resto d'Italia da parte della Commissione Ambiente, insomma del Parlamento c'è grande attenzione su queste tematiche e perché ne va del nostro futuro. In visita il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, un sopralluogo che è proseguito poi anche a Vasto nel sito di Vallone Maltempo. Voglio sottolineare con soddisfazione l'ottima collaborazione istituzionale con il generale Vadalà, con lo Stato nel restituire ai territori delle discariche a volte abbandonate, a volte abusive, comunque che necessitavano di essere bonificate e rimesse in sicurezza. Questo lavoro si sta sostanzialmente concludendo. A giugno 24 l'ultima rimasta, quella di Vasto, verrà conclusa come questa di Francavilla, ripristinando lo stato dei luoghi, soprattutto mettendo in sicurezza e eliminando ogni pericolo e fonte di inquinamento. Poi su terreni restituiti all'utilizzo si possono impiantare magari dei impianti fotovoltaici e anche un bel modo, una sorta di contrappasso positivo. Sono luoghi che hanno rappresentato inquinamento e problematiche ambientali, vengono oggi potenzialmente riutilizzati per invece l'economia circolare e le energie rinnovabili. Credo che sia davvero un buon passo e un buon esempio e sono soddisfatto. Ringrazio il generale Vadalà dell'Arma dei Carabinieri e lo Stato per aver messo a disposizione una collaborazione così competente, così importante e soprattutto così efficiente che ha permesso in poco tempo di eliminare 14 siti e di eliminare anche una procedura di infrazione nei confronti della comunità europea che all'Italia costava molto.